Adesso vi faccio vedere il mio lido preferito, guardate che spettacolo, un lido dove non ci sono ombrelloni, sdraio, lettini, gente che grida, gente che corre, no, gente che ti butta la sabbia addosso, no, vi faccio vedere il mio lido preferito, un'acqua limpida, gelida dal mio sdraio, il mio ombrellone era quello l'asso dell'albero e tutto ciò che la natura ci offre, siamo a Calivi, vi aspetto quest'estate, baci E questa amici è la nostra bellissima Greta, se vedete un po' annoiata e abbronzata e poi le foto del giorno e ci vediamo al prossimo video, ciao!